E boom di vaccinazioni a Trieste, tanto che al momento se si vuole prenotare la terza dose di vaccino ci si trova di fronte a un sistema informatico che nei centri vaccinali del capoluogo Giuliano non dà disponibilità per gli over 40 che non rientrano tra le categorie con obbligo di vaccinazione. Chiaro è che l'introduzione del decreto che ha introdotto alcune innovazioni ha fatto sì che aumentasse fortemente la domanda. Il collo di bottiglia è venutosi a creare a seguito del nuovo decreto del governo Draghi che ha introdotto il Green Pass rafforzato dando l'ok alle terze dosi anche dopo cinque mesi dalla seconda e dovuto a più fattori. Una mole di richieste di prime dosi per chi si è convinto ora a vaccinarsi i previsti accessi di chi ha visto passare ormai sei mesi dalla seconda inoculazione e quanti a seguito dell'anticipo possibile della terza dose si sono affrettati a prenotarsi. Ecco che il sistema è andato in sofferenza nel giro di pochi giorni. A ciò si somma un quarto elemento. Da oggi, lunedì 29 novembre, comunica l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi, saranno prenotabili con priorità le somministrazioni del booster alla categoria obbligata di tutti gli operatori dell'ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, studenti, specializzanti e tiracinanti in area sanitaria, incluso il personale tecnico e amministrativo per i quali in scadenza il Green Pass entro il 31 dicembre. Agende prioritarie in arrivo nei prossimi giorni anche per polizia, vigili del fuoco, personale scolastico e universitario. Asugi però di fronte a questa mole di lavoro è pronta a rispondere a Trieste e a Muggia con nuove linee di vaccinazione e personale aggiuntivo. Ci saranno aggiunte di centri vaccinali dal 7-8 dicembre due nuove linee al centro commerciale Montedoro di Muggia e da metà dicembre altre due linee al Molo 4, per cui potenzieremo ancora l'offerta. Va aggiunto inoltre che dalle 14 del primo dicembre sarà possibile prenotare la terza dose anche per le persone dai 18 anni in su. Ovviamente nulla vieta di rivolgersi a Gorizia, a Bonfalcone o ad altri siti asugi dove gli slot per la vaccinazione rimangono ancora molti anche in questo periodo.